Tutti siamo portati a farci delle domande, non soltanto i poeti o i filosofi. Per questo Leopardi dà la parola ad un pastore, quindi una figura umile dell'Asia, estraneo alla civiltà occidentale, che è errante, che non significa soltanto nomade, ma nel senso metaforico che erra, cioè che sbaglia nei tentativi di dare una risposta alle sue domande di senso e sceglie come interlocutrice per le sue domande la luna, soltanto che la luna è silenziosa, muta, e ciò rende impossibile che egli possa ricevere una risposta. D'altronde la luna è immortale, vergine, intatta, nel senso che non è toccata dalle sofferenze umane, da quello che il poeta chiama il patir nostro. La condizione umana è negativa e Leopardi si serve di un'allegoria per rendere con le immagini la sua idea, un vecchi Erel che affronta un cammino accidentato, con un peso sulle spalle, che cade, si rialza, che corre, si ferisce, e tutto questo per arrivare ad un abisso che coincide con l'oblio, cioè con l'annullamento. È una corsa senza senso, vana, ma proprio questa è la cifra dell'esistenza umana, e per questa ragione conviene che i genitori consolino il proprio figlio della sua nascita e nel corso della sua vita diano il proprio conforto e il proprio sostegno. Il pastore ipotizza che la luna conosca il segreto della vita mortale. Prima c'è un forse intendi, poi un certo comprendi il perché delle cose, il frutto, cioè lo scopo, e poi tu sai, tu certo, e il discorso si allarga poi in una prospettiva cosmica e il pastore si interroga addirittura sul destino dell'universo, sul perché della stanza smisurata e superba, ma l'unico dato incontrovertibile è il dato della sofferenza. E rispetto a questa sua consapevolezza, il greggio gli pare beato, fortunato, perché non sa, ed è per questo che è libero dagli affanni, perché è la consapevolezza alla fine che rende infelici gli uomini. La felicità del greggio consiste proprio nell'assenza di tedio, di noia, di fastidio. Il greggio vive una condizione felice all'opposto dell'uomo che è inquieto. Il greggio non si pone domande e non ha desideri o bisogni da soddisfare e quindi non insegue il piacere, che comunque è vano e irraggiungibile. Il pastore invece ha un fastidio che gli ingombra la mente. Alla fine del testo il pastore pone l'ipotesi che se lui avesse altra forma, per esempio se avesse le ali, forse potrebbe essere felice, ma la conclusione è pessimistica, come sembra suggerire il tenore di tutto il testo, perché dichiara che l'infelicità è costitutiva di tutti gli esseri, sia che si nasca in una culla, sia che si nasca in una tana. Alla fine il di Natale è funesto per tutti, con questo accostamento tra funesto che ha a che fare con la morte e Natale che ha a che fare con la nascita. Alla fine del testo il testo il testo il testo. Grazie.